Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Veronica Gentili incanta i suoi follower con scatti pazzeschi che mettono in risalto la sua bellezza mentre si sta godendo le meritate vacanze estive Punto anche per l'attrice e giornalista Veronica Gentili sono arrivate le tanto attese vacanze Il bellissimo volto di rete 4 dopo un inverno di lavoro e ricco di soddisfazione si lascia andare alla spensieratezza e al blu del mare e della piscina Il fascino della conduttrice non passa di certo inosservato e tutti i suoi post ricevono puntualmente una miriade di like Le voci sul suo presunto futuro su canale 5.Al timone di controcorrente da un bel po' di tempo, Veronica Gentili diventa sempre più una figura costante di media set, un punto di riferimento di rete 4 Tuttavia non sono mancate le voci che l'avrebbero voluta vedere anche su canale 5 e niente popo di meno nel pomeriggio al posto di Barbara D'Urso Punto l'indiscrezione è approdata anche sul settimanale oggi, dicendo che Veronica Gentili avrebbe dovuto sostituire Carmelita, nel suo programma di sempre, ma solo nella versione estiva Tuttavia, come sappiamo nulla di tutto ciò è accaduto, né la Gentili ha sostituito la D'Urso, e né tantomeno è spuntato un pomeriggio 5 in versione estiva Veronica Gentili al mare e in piscina.Insomma, si è trattato di un semplice rumor che poi non è si concretizzato nella realtà Veronica Gentili per mettere chiarezza sulla faccenda, in un'intervista rilasciata a TV Blog ha fatto sapere di non aver mai avuto proposte del genere e pertanto di non aver avuto l'occasione reale di pensarci su Intanto se proprio di sostituzioni bisogna parlare, è arrivata la notizia che sarà lei stessa ad essere sostituita per le vacanze estive, da Alessandra Viero, nella conduzione di controcorrente Il motivo è semplice, Veronica è andata in vacanza e lo fa sapere attraverso i suoi post su Instagram, che la mostrano prima in aereo e poi al mare La conduttrice, seguita da oltre 180.000 follower, condivide scatti in cui appare bellissima a bordo piscina e poi in acqua, emergere è la didascalia che accompagna la foto, che in breve tempo ha ricevuto tantissimi messaggi pieni di complimenti Sei bellissima, sembra una foto come tante ma in realtà è un capolavoro complimenti Veronica sei bellissima sono solo alcuni dei messaggi arrivati sulla sua bacheca Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video